Dal primo luglio 2019 a Palermo il servizio di car sharing, letteralmente condivisione dell'automobile, aggregato ad Amat, è gestito con la nuova piattaforma operativa Amigo. Non solo la sostituzione del marchio commerciale YoGuido, attivo fin dal 2009, ma l'evoluzione del servizio, sempre più a vocazione territoriale e regionale, con nuove funzionalità, fra le quali una nuova app per Android e iOS, che consente in modo più rapido l'iscrizione ed il pagamento online, l'accesso al noleggio delle auto con apertura porte direttamente via smartphone, un nuovo sito web e, a regime entro il 30 settembre 2019, la piena integrazione fra car e bike sharing in un'unica piattaforma di gestione. Amigo è la nuova piattaforma della mobilità sostenibile della città di Palermo, che comprende dal primo luglio il nuovo car sharing automatizzato, che ha possibilità attraverso un'app di potersi registrare direttamente, aprire le macchine col proprio telefonino, in modo molto semplice. Amigo sostanzialmente eredita il patrimonio del servizio YoGuido, che da dieci anni è cresciuto nella città di Palermo, con 90 parcheggi e 160 macchine. In più, la piattaforma ormai è configurata come una piattaforma regionale, perché siamo presenti non solo nella città di Palermo e Monreale, come provincia di Palermo, anche nel Trapanese, con le città di Trapani, Alcamo, Castellammare, prossimamente Castelvetrano e la città di Enna.